Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buonasera, buonasera, benvenuti al nostro punto di luce con Don Roberto Ponti. Buonasera. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera Adriana. Parliamo di un argomento di stretta attualità, perché purtroppo quando si parla di guerra e di pace dobbiamo aggiungere un altro conflitto che è esploso in Medio Oriente e quindi si torna a parlare ancora di guerra e soprattutto di pace. Sì, diciamo l'argomento che vogliamo mettere in evidenza, il punto di luce, è la pace. Sì. Perché sappiamo che purtroppo la violenza e la guerra fanno parte della storia dell'umanità. È una questione, una domanda che ci facciamo. La pace è ancora un obiettivo possibile perché potremmo dire che nonostante tutta l'esperienza negativa che quasi tutti hanno sulla propria pelle della violenza, di che cosa significa essere in guerra, di che cosa significa perdere la possibilità di vivere tranquillamente a causa dei conflitti, e poi dopo si ricade in questa situazione veramente tragica della guerra, dei morti, dei feriti, di famiglie distrutte. Sì, le bombe sugli ospedali. Noi non ci siamo ancora abituati alla guerra in Ucraina e adesso appunto ne esplosa un'altra in Medio Oriente. Però credo che tu non voglia parlare solo di pace come assenza di guerra, ma anche come giustizia sociale, equilibrio, no? Il concetto di pace è un concetto molto ampio che serve proprio a evitare ogni conflitto. E se costruiamo insieme la pace, e come cerco sempre di dire, anche nelle relazioni più quotidiane, più semplici, quelle che noi possiamo gestire, se da lì viviamo in pace, forse questa pace potrà diffondersi, eradicarsi nel nostro vivere, pur con la consapevolezza che ci sono situazioni che ci superano, situazioni diplomatiche, politiche, di territori, di tante situazioni che non sono nelle nostre mani, ma che potranno essere in qualche modo toccate dalla nostra scelta di pace. Esatto, poi tu parli anche di empatia, no? Perché la pace è anche l'empatia per l'altro, la comprensione dell'altro, e quindi non il rinchiudersi nei propri desideri, nelle proprie necessità, ma per irsi anche all'altro, anche questo è pace. Tutte le volte quando scoppia una guerra ci si divide in fazioni, perché chi sostiene una, chi trova le ragioni per sostenere l'altra, io penso che tutti dobbiamo essere nell'unica fazione della ricerca per la pace, che non è più una fazione, ma è l'unità, la comunità, che cerca insieme la pace. Finché ci sono delle divisioni, finché non c'è giustizia sociale, finché non c'è attenzione a chi ha più bisogno, finché c'è questa situazione di conflitto interiore, non si può costruire la vera pace. Ecco, allora il nostro punto di luce vuole proprio mettere in evidenza il percorso che personalmente, come comunità, come società, tutti dobbiamo fare per essere non più delle fazioni, ma un popolo che crede nell'obiettivo possibile della pace. Esatto, quindi la pace come impulso, come spinta di vita, anche a partire dalla nostra quotidianità. E' quello che possiamo fare, perché ovviamente la diplomazia, con tutti i suoi limiti, con tutte le carenze che dimostra, deve fare il suo percorso. Speriamo che sia fatto bene. Tutti i rapporti internazionali devono operare, si spera, in vista di una diminuzione dei conflitti, soprattutto di quelli che si stanno acuendo in questi giorni. In più noi cosa possiamo fare? Ci possiamo mettere qualche cosa del nostro, ovviamente un impegno di conversione, di attenzione all'altro, che significa costruzione della pace. Esatto, allora come al solito, poi partiamo dalle opere d'arte, perché parlando di pace, ovviamente si parla anche di guerra, ma tu hai scelto delle opere ad hoc. Sì, perché storicamente, soprattutto tra le due guerre, poi nel secondo dopoguerra, degli artisti molto famosi hanno espresso la volontà di pace e di rifiuto della violenza e della guerra attraverso delle opere d'arte. Ne ho prese due autori che sono tra i più noti, anche le loro opere sono già molto conosciute, forse le abbiamo già viste, già utilizzate, però le riprendiamo. Una è quella di Paolo Picasso, questa in particolare è una cappella di un luogo dove lui è andato a vivere dopo aver lasciato Parigi, vicino alla Costa Azzurra, e questa cappella si chiama La Guerra e la Pace. Ci sono le due contrapposizioni, le due facciate diverse della cappella, le due volte, una che vediamo più oscura, che è quella della guerra, e una più chiara, più ricca di colori e di luce, che è quella della pace. È stata dipinta nel 1953, la morte con in mano un coltello insanguinato, e invece la scena che si illumina di colori sgargianti, che è quella della pace, che si anima di persone di vita, secondo lo stile proprio di Pablo Picasso. Sì, quando pensiamo a Pablo Picasso, pensando alla guerra viene mente guernica, però l'abbiamo già utilizzato tante volte. Allora ho preso questa, che è molto simile nell'espressività, ma che è un... No, che rappresenta anche la pace, questo. Sì, proprio, c'è la contrapposizione tra l'oscurità della guerra e la luce della pace, e poi sul fondo queste quattro persone che raffigurano un po' i quattro popoli, o comunque tante forme dell'essere, di partecipare all'umanità, alla società, e la colomba della pace, che ha messo in evidenza proprio Picasso, anche in un'altra opera che possiamo vedere, che è stata poi utilizzata come un foulard in una manifestazione, il Festival dei Giovani e degli Studenti per la Pace, un po' prima ancora, già nel 1951 a Berlino, immaginiamo che cosa significava in quegli anni parlare di pace. Ma Berlino che è la città divisa in due, è una città distrutta dalla guerra. Allora, ci sono i quattro volti, li vediamo chiaramente, poi al centro la colomba della pace, e questo foulard è stato utilizzato proprio come emblema di pace durante questa manifestazione, poi è rimasto come un'opera d'arte che significa costruzione della pace. Esattamente. in opposizione facciamo un passo indietro e vediamo Salvatore Dalì che nel 1940 realizza quest'opera. Questo è famoso e terribile. E' molto famosa, che si è il volto della guerra. Ecco, è un volto della guerra con questa particolarità nelle aperture delle... Negli occhi e nella bocca. Negli occhi e nella bocca di questo teschio vediamo altri teschi con dentro la stessa cosa. Che racchiudono altri teschi. E' come un messaggio un po' di... quasi che non si possa fermare questa forza della guerra. Che la morte porta altre morti, no? Che porta altre morti, che si continua a riarrotolarsi su di sé e uno sguardo che non riesce a liberarsi da questa violenza se si entra in questa dinamica di violenza. E' come se la guerra si ripetesse all'infinito, no? Cioè, se non si interrompe si ripete, si moltiplica. Bisogna veramente saper interrompere. Perché da uno diventano tre, da tre diventano nove, no? Poi diventa esponenziale. Bisogna interrompere questa catena di violenza che genera soltanto sofferenza che invece che far diminuire l'odio lo accresce e poi sappiamo la sofferenza che cosa significa nel concreto per i bambini e soprattutto per le famiglie che vengono divise, separate, distrutte. Ecco, tante situazioni che quando si vivono sulla propria pelle poi si capisce quanto male si faccia attraverso l'esperienza della guerra e quindi lasciare da parte l'obiettivo della pace che invece vorremmo ricostruire insieme. Farlo tornare a essere il nostro vero obiettivo. Adesso approfondiamo dopo l'arte, adesso approfondiamo il tema con dei dialoghi, no? Con dei video, la prima è quella di alcuni bambini. Sì, questa è una maestra che sui social ha prodotto diversi contenuti. Maestra Emy ha preparato questo video con una classe di bambini di un paese, di una cittadina dell'Abruzzo e penso che sia un modo per ricostruire questa sensibilità alla pace anche se è un po' datato va sempre bene. Vediamolo. Grazie a tutti. Io sono un pezzettino di mondo Noi siamo tutti un pezzettino di mondo Io posso essere un pezzettino di guerra Io posso essere un pezzettino di differenza Io posso essere un pezzettino di pace La guerra è non rispettare gli altri L'indifferenza è pensare solo a se stessi La pace è attenzione e cura verso gli altri Io sono un pezzettino di nuovo Io voglio essere un pezzettino di pace nel mondo Ma la pace non è qualcosa che si legge La pace non è qualcosa che si vince La pace è qualcosa che si fa La pace è un sentimento da donare La pace è dentro ciascuna di noi L'indifferenza è un pezzettino di noi L'indifferenza è un pezzettino di noi Diciamo che è attuale È ancora attuale È sempre attuale Nonostante sia datato Perché vediamo che c'erano le mascherine Di un momento particolare della nostra vita Però erano già tornati a scuola Quindi non era proprio all'inizio Però ci hanno detto con le voci dei bambini Che cosa significa costruire la pace insieme Come significa impegnarsi per la pace È bella questa frase La pace non è qualcosa che si dice O che si legge Non è qualcosa che si fa E certo Perché come dicevamo prima Parte proprio da un atteggiamento interiore E pratico nella nostra quotidianità Fino ad arrivare poi chiaramente Alla diplomazia e alla politica Come sempre poi vogliamo ascoltare anche il Santo Padre Ci sono due interventi del Papa Uno che anche questo è datato Ma ci spiega un po' il ruolo delle religioni Per costruire la pace C'è stato un incontro di Sant'Egidio Che ha raccolto tempo fa Diversi rappresentanti Delle varie religioni del mondo Proprio in vista di costruire insieme la pace E allora il Papa aveva fatto un intervento In cui perché a volte anche la religione Viene messa dentro Sì viene strumentalizzata Viene strumentalizzata E allora sentiamo una parola chiara del Papa Su questo discorso Il primo video Siamo insieme questa sera Come persone di diverse tradizioni religiose Per comunicare un messaggio di pace Questo manifesta chiaramente Che la religione Che le religioni non vogliono la guerra Anzi Smentiscono Quanti sacralizzano la violenza Chiedono a tutti di pregare E' un elemento di divisione E' un elemento di unione Anche tra diverse tradizioni religiose Come ha detto il Papa Quindi non si può trovare L'espediente O la ragione di una guerra Di un conflitto Nella propria fede Non può mai essere la fede Una causa di guerra Una causa di guerra Ogni guerra Ogni conflitto Questo è recentissimo Ovviamente dopo lo scoppio Anche del conflitto In Medio Oriente In Terra Santa Tra Israele Quello che è successo Di molto grave E che sta Poi portando a situazioni Di grande Di enorme sofferenza Che devono fermarsi Il più presto possibile Sentiamolo Seguo con apprezzione E dolore Quanto sta avvenendo In Israele Dove la violenza Esplosa ancora Più ferocemente Provocando centinaia Di morti e feriti Esprimo la mia vicinanza Alle famiglie delle vittime Prego per loro E per tutti coloro Che stanno vivendo Ore di terrore E di angoscia Gli attacchi E le armi Si fermino Per favore E che si comprenda Che il terrorismo E la guerra Non portano A nessuna soluzione Ma solo Alla morte Alla sofferenza Di tanti innocenti La guerra È una sconfitta Ogni guerra È una sconfitta Preghiamo Perché sia la faccia In Israele E in Palestina Poi lui dice In Palestina Quindi riconosce Perché il Vaticano Ha dei rapporti Diplomatici Con l'organizzazione Dei territori Della Palestina E con Israele Ovviamente con Israele Lì il problema È veramente complesso E ha delle radici storiche Ma che non giustifica Non giustificano Nessuna violenza No perché il terrorismo È una risposta A un problema Perché il fatto Che ci siano due popoli E uno stato solo È un problema Che non viene risolto E il terrorismo Cerca di risolverla In questo modo Però quello che dice Il Papa Che non si risolve così Si risolve così E soprattutto la sofferenza Che si sta creando E abbiamo visto No questi bombardamenti Sui bambini I bambini Coinvolgere proprio Chi non vuole La violenza Perché non ha nemmeno Avuto il tempo Forse di pensare Perché sono dei piccoli E da una parte e dall'altra Sono stati coinvolti E sono stati oggetto di violenza Addirittura sono morti Tanti bambini Se solo pensiamo a questo Comprendiamo che la guerra La violenza Non ha nessuna ragione D'essere In nessuna parte del mondo E allora Lavoriamo noi Da principio Cioè con quello che possiamo fare Anche nel piccolo Per sconfiggere ogni violenza Va bene Ci fermiamo Qualche istante Poi parliamo di lettura Inerente sempre Al tema della pace A tra poco E eccoci Qualche consiglio di lettura Inerente sempre Al tema della pace Sì Ovviamente Si parla spesso Del tema della pace Siamo stati coinvolti In un conflitto Qui vicino a noi In Ucraina E quindi In molti hanno scritto E hanno proposto Delle riflessioni Su quello che è accaduto E nel luglio scorso È apparso questo libro Di Andrea Riccardi Che è esperto di pace Perché con la comunità Di Sant'Egidio È stato più volte Un mediatore di pace In tante situazioni In giro per il mondo E lui ha proposto Lui ha proposto L'edizione di San Paolo La pubblicazione Di questo libro Che è intitolato Il grido della pace Ovviamente È più legato All'esperienza Della guerra in Ucraina Ma è ancora attuale E i suoi contenuti Sono proprio Quelli che servono Per capire Come far emergere Il grido della pace Quindi è una chiave di lettura Anche per il conflitto attuale Direi di sì Il punto di partenza È proprio quello di Conoscere la realtà In giro per il mondo E conoscere anche L'esperienza Di grandi conflitti Che è anche di grandi personaggi Come la Pira ad esempio Che sono stati Dei costruttori di pace Certo E il libro Vuole proprio Mettere in evidenza Questo Che si tratta Di cogliere Un grido Che esiste sempre Che è quello della pace Che va fatto Riemergere Da tutti i conflitti Perché Quello che tutti cercano È la pace A volte invece Questo grido di pace Che è quello maggioritario Viene sommerso Da quello minoritario Di chi vuole Risolvere le situazioni Sulla terra Tramite la violenza Solo che ne basta uno Ne basta uno Che può scatenare E che blocca tutto Una citazione Che è contenuta nel libro Che è molto interessante È quella di Anna Frank Sappiamo Il diario di Anna Frank C'è negli uomini Un impulso Alla distruzione Alla strage All'assassinio Alla furia E fino a quando Tutta l'umanità Senza eccezione Non avrà subito Una metamorfosi La guerra Interverserà Che lei dice che c'è Nell'uomo c'è una natura Crudele Diciamo che c'è il rischio Che questa natura crudele Prevalga Prevalga in noi Allora comprendiamo Quanto vale il discorso Che abbiamo già fatto Cioè sul lavoro personale In vista della pace Che è quello che propone Anche questo libro Proprio per far emergere Il grido della pace Io direi di chiedere Sì abbiamo due testimonianze Durante la presentazione Di questo libro Ci sono stati due interventi Interessanti Tra gli altri Uno è quello Di Don Antonio Rizzolo Che è il nostro Confratello Direttore generale Dell'Apostolato Paolino In Italia E poi del cardinale Matteo Maria Zuppi Che sappiamo Presidente della CEI E anche Tra gli animatori Della comunità Di Sant'Egidio Quindi molto vicino Ad Andrea Riccardi Sentiamo Una parola sul libro Sul titolo Il grido della pace La copertina In qualche modo Fa riferimento Al dramma Che c'è dietro A questo grido Cioè alle guerre Alle distruzioni Le carestie E tutti i problemi Che ne conseguono E quindi c'è un dramma Dietro Però Il titolo In qualche modo Mette in evidenza Quello che Papa Francesco Chiama La logica Della buona notizia Che è la logica evangelica Perché Non parliamo soltanto Di ciò che non va Ma Vogliamo ascoltare Il grido della pace La pace grida E quello che Credo Il libro Voglia comunicarci Fondamentalmente È quello di Metterci in ascolto Ascoltare il grido Della pace Che viene dalla storia Non possiamo dimenticare La storia Che in particolare Nel novecento Ha visto due guerre mondiali E tante altre Distruzioni E tante guerre E tante violenze Che ancora oggi Sono all'ordine del giorno Ma c'è anche il grido Delle persone Dei poveri In particolare Delle persone Che subiscono Le conseguenze Delle guerre E delle violenze E in fondo C'è il grido della pace Che c'è anche dentro Ciascuno di noi Perché tutti noi In qualche modo Desideriamo La pace La pace Comunque la chiamiamo Che vuol dire Anche giustizia Che vuol dire In una parola La felicità O per dirla In maniera cristiana La salvezza Il grido della pace Dobbiamo ascoltarlo Quello che viene Dalla storia Quello che viene Dagli ultimi In particolare Quello che viene Dentro il nostro cuore Eh sì È molto chiaro Fa capire Il senso anche Di un titolo Legato a come Ciascuno Può intervenire Per far gridare La pace E poi Che è il nostro punto Di partenza Che viene da ognuno Di noi Tutti noi possiamo Dare un contributo Alla pace E la lettura Di questo libro Penso che Dà quelle informazioni Anche più Tecniche Se vogliamo Comunque Quell'approfondimento Che è utile Anche per un cammino Personale Adesso sentiamo Invece Monsignor Zuppi Sempre sul libro Per certi Vuole farci scendere Cioè aiuta A capire A dotarci Di una strumentazione Per affrontare Le Le sfide Di questo momento Qui Per questo Anche Credo che Davvero Sarebbe una lettura Da consigliare A molti A mio parere Sì anche Tradotto Molto Molto Ormai Anche tradotto In italiano Perché Però ecco In realtà È un libro Che ha una storia Di 40 anni Di una Mi sembra Ecco io Ho ritrovato anche Tante cose Che mi sembra anche Tanto un distillato Della Della passione Della storia Della storia Della conoscenza Dell'accumulo Prima Anche a riprendere Soltanto le citazioni Che sono state Offerte Tra le tantissime Del libro Contenute nel libro Penso che c'è proprio Questa capacità Di Continuare Ad accumulare A tessere Su Alcune visioni Che ci aiutano A capire A entrare In quella che De Ritter Ricordava giustamente La profondità Della storia E Questo Credo che sia Proprio la 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 ricchezza Del libro Molto Che è un libro Sulla pace Ma non è soltanto Sulla pace In realtà E 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 Stimoni E Anche in questo Credo che c'è Una passione Penso Dell'autore Di E Così Di Un E Kingler Essendo la vita All'arte dell'incontro E lo è indubbiamente La vita All'arte dell'incontro Una citazione Così anche Che ho ritrovato Nell'Evangelii Gaudium E Piena di incontri Piena di incontri Non è solo Soltanto Quelli Fisici Di tante Tante Incontri Personali Che hanno visto Andrea Direttamente Coinvolto Ma di quegli incontri Con persone Che non c'erano Che Di cui Che lui incontra E che ci fa incontrare Questa è la voce Di Nostiano Zuppi Quindi della CEI Siamo in chiusura In chiusura Dobbiamo La nostra frase per chiudere Una frase per chiudere Che prendo da Un grande testimone Della non violenza E quello che serve In questo momento Proprio per abbassare Tutti i toni Per non sentirci schierati Da una parte o dall'altra Ma per cercare Insieme la pace Gandhi diceva Che Mi oppongo alla violenza Perché Quando sembra Produrre il bene La violenza È un bene temporaneo È un bene temporaneo Mentre il male Che fa È permanente Magari otteniamo Un vantaggio temporaneo Sembra un vantaggio Sembra Ma in realtà Non lo è Ma il male Che procura la violenza È sempre un male Permanente E noi vogliamo Costruire invece La pace Che è il bene Permanente Che è il bene Che può stare Tra noi E costruire Un benessere Di cui poi Tutti possono Beneficiare E Gandhi era proprio Insomma il simbolo Della pace Più di lui Chi più di lui Va bene Grazie Da Don Roberto Ponti Grazie alla regia E come al solito Grazie a chi ci ha seguito Alla prossima Arrivederci Questo programma Vi è stato offerto Da Famiglia Cristiana Il settimanale Della famiglia Della famiglia